Fai la panoramica, per favore. Signori, signori, buongiorno a tutti. Il sole ci sta baciando stamattina, lo ripeto. Oggi siamo qui alla seconda edizione dell'uscita con il nostro special guest Francesco Araso. Voglio un applauso. Perché lui è già pronto alla guerra. Essendo che è la seconda edizione, è la prima edizione, non l'abbiamo fatta. Stappiamo, stappiamo. Mi pioggia, non stai uscito dal fossino. Ma chi è che l'ha portato il vino? Adesso c'è un video al signor Ciccio che stappava la sua bottiglia nella seconda edizione. Allora, guardate il bicchiere così nella gente. No, ma questo ora non lo potremo vedere. Perché? Andiamo a guardare. Ah, ma il bicchiere è andato a zero. Oh, è pure buono. C'è uno palloncino ad essere a zero. Eh, a me lo dici. Solo chi si ha portato? Non l'abbia di portare io. Stappa, stappaci. Una botta. Una botta. Vedo cadaveri sulla mia strada. Vedo cadaveri sulla mia strada. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. 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 Il telefono non rende frescheggia. Ragazzi, un saluto. signor ciccio. Come va la sua seconda edizione? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. 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 Sotto! Di nuovo! Dai, Romanna! Dai! Vai! Vai, Romanna! Eh, ma perché morite tutti là? Vai! 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 Ma tutti i camorete, perché? Stai riuscito a mangiare la frizione! Perché? No, dove cattanti? Eh, ho capito! Eh, ho capito! Ok! Eh, ho capito! E siamo arrivati, siamo arrivati, 50.9 chilometri, Ciccio, considerazione al caldo della giornata. Fantastico, sei un GPS umano, 50 chilometri, Ciccio, 50.9 puliti, puliti, è andata bene Ciccio? Tapposto. Vabbè, i giovani hanno avuto il climato di strada, bellezza, guarda com'è bello, guarda dopo che ha fatto un black flip in montagna. Vabbè ragazzi, adesso andiamo a mangiare però, e basta, e basta, considerazione zio. Bellissima giornata, ci siamo tolti un pochettino di ruggine da addosso, dalla prossima volta si fa sul serio. Eh mamma! Grazie a tutti! Grazie a tutti!